Pugnire e zampare del vino E ciao, questa è la mia segreteria telefonica, sono Matteo Ti voglio dire una cosa, se mi richiami un attimino ti spiego tutto, ok? Dai, appena poi chiamami, ciao! Oh che pizza, sempre io devo richiamarlo, mamma mia, vabbè, chiamiamolo un attimo La segreteria telefonica di questo numero, ti invitiamo a richiamare più tardi, il telefono ti ha chiuso perché attualmente è un pochettino occupato Sei pregato di richiamare e questa segreteria ti costrerà tantissimi soldi Arrivederci Non ti arrabbiare, non ti arrabbiare, non ti arrabbiare, non ti arrabbio, non ti arrabbio! Grazie a tutti!